Dopo l'estenuante periodo di lockdown, Iesolo si risveglia. Ti stiamo aspettando. Prenota il tuo posto spiaggia con parcheggio allo stabilimento Manzoni di Iesolo. Chiama al 0039 388 89 49 486. Vienici a trovare in via Dalmazia 15 a Iesolo. Manda una mail infochioccio alla stabilimento balneare manzoni.it Visita il nostro sito www.stabilimentobalnearemanzoni.it Lo stabilimento d'eccellenza a Iesolo. Non lontano con un bel parcheggio in via Pordinone 470. Rispettiamo il Covid-19. Dopo ogni utilizzo del bagno, una grande igienizzazione con ozono, acqua e lavaggio. I nostri ombrelloni si aprono e si chiudono con un clic. Tecnologia, gioia e divertimento a Iesolo. Iesolo.